Sappiamo tutti che le convenzioni internazionali impediscono di utilizzare i bambini come soldati, ma se invece decidessimo di sfruttarli come spie, che cosa potrebbe andare storto? In tutti gli anime degli anni 70, 80 e 90, i migliori piloti e agenti segreti sono sempre e comunque ragazzini adolescenti. Il pilota del Mazinga Z che combatte una guerra personale contro una civiltà aliena è per esempio Koji Kabuto, che all'inizio della sua avventura ha solo 16 anni. Anche a Muro Rei, la prima volta che si siede sul sedile del Gundam, ha solo 15 anni. E infine, anche negli anni 90, le 5 spie protagoniste di Gundam Wing sono tutti ragazzini di 15-16 anni al massimo. Ma nella realtà è concepibile che dei ragazzini vengano addestrati e mandati in prima linea a combattere contro nemici molto più forti di loro? Naturalmente no, nel mondo reale, a parte il problema etico di mettere dei ragazzini in prima linea e in situazioni pericolosissime, i piloti e le spie devono essere altamente addestrate e avere un bagaglio culturale di tutto rispetto, che ai 14 anni, 15 anni e 16 anni normalmente manca. Inoltre, nel mondo reale, nessuno, anche se psicopatico, si sognerebbe mai di affidare un aeroplano da 20, 30, 50 milioni di dollari a un ragazzino di 14 anni. Già è imprudente dargli in mano un cinquantino o un 125 cavalli, figurarsi che cosa possono combinare con 800 o 2000 cavalli di carro armato. Tuttavia, anche nel mondo reale, esistono situazioni in cui un adolescente può davvero fare la differenza ed essere fra le migliori spie disponibili. Anche perché non ce ne sono altri in giro, sono proprio le uniche disponibili. Iniziamo a raccontare la breve avventura di Andrei Pocarasa. Andrei Pocarasa è un ragazzino come tanti altri, che ha paura dell'altezza ma adora i droni. Per il suo compleanno i genitori gliene regalano uno semiprofessionale e lui impara subito ad utilizzarlo, diventando il migliore nonché unico pilota del circondario. I problemi iniziano a sorgere verso la fine del mese di febbraio 2022, quando i russi hanno invaso l'Ucraina e stanno marciando verso la capitale. L'esercito di Kiev ha assoluta necessità e urgenza di localizzare il nemico. Il problema consiste nel fatto che non ha ancora i mezzi per farlo. E a questo punto Pocarasa si offre come ricognitore. Lui infatti, come ripetiamo, è l'unica persona in quella città che sa utilizzare un drone e probabilmente è anche l'unico a possederne uno. Motivo per cui i militari non requisiscono l'equipaggiamento ma chiedono la sua collaborazione. Nottetempo Pocarasa esce con suo padre e i due iniziano a svolgere attività da ricognitori. Fatto è che il ragazzo scopre in maniera abbastanza rapida e semplice una colonna di mezzi nemici in avvicinamento, riesce a segnare la posizione di questi nemici e a passare le coordinate all'esercito ucraino, il quale fa il suo sporco lavoro, riducendo quella colonna a un ammasso di rottami fumanti. Quando viene raccontata questa storia sui servizi giornalistici ha quindi un lieto fine. Gli ucraini hanno battuto i russi brutti e cattivi e Pocarasa peraltro ha ottenuto in regalo dall'esercito ucraino un altro drone ancora più efficiente e professionale di quello che possedeva precedentemente. Tuttavia questo è davvero un lieto fine? Oppure sarebbe il caso di porsi qualche domanda? In primo luogo ci si dovrebbe chiedere se tutte le convenzioni internazionali siano state rispettate oppure no. Certamente non è legale utilizzare dei minorenni come soldati. In questo caso Pocarasa non era un vero e proprio soldato, era semplicemente un cittadino preoccupato. Quando è uscito per la sua missione, fra virgolette, non lo ha fatto con altri militari, lo ha fatto con suo padre e ufficialmente si è trattato di una banalissima scampagnata. E naturalmente se un civile nota qualcosa di anomalo, ha tutto il diritto di segnalarlo alle autorità competenti. Peraltro a voler essere precisi, la segnalazione in questo caso specifico non l'ha fatta Pocarasa, ma suo padre. Quindi i rischi per il ragazzo, compatibilmente con la situazione, sono stati davvero bassi, perché sostanzialmente lui non ha preso parte a un'operazione militare e è andato nel bosco per usare il suo drone. Formalmente, se i soldati russi avessero dovuto incrociare lui e suo padre, non avrebbero dovuto torcere un capello a nessuno dei due. Proprio perché i due sono due semplici civili. I problemi veri sono altri e sono di due tipi profondamente diversi. In primo luogo c'è il rischio che i russi non rispettino le convenzioni internazionali e che, per esempio, possano aprire il fuoco contro i civili, per errore oppure intenzionalmente. Ricordate quel ragazzo che faceva parte di un equipaggio di un carro armato russo che si è dato alla fuga dopo che il suo veicolo è stato colpito e ha eliminato un ciclista perché temeva di poter essere identificato e raggiunto dagli ucraini? Ecco, situazioni di questo tipo qui, per i russi, non sono esattamente all'ordine del giorno, però sono tranquillamente concepibili. E mandare o chiedere a due civili di andare in ricognizione non è esattamente il massimo del rispetto per le loro vite. Altro punto fondamentale da tenere in considerazione sono i riflessi che questa azione può aver avuto sul ragazzo. Naturalmente, a suo modo, il ragazzo è un eroe, ma è anche una persona che ha contribuito a togliere diverse vite, quelle degli equipaggi russi che si trovavano sui mezzi segnalati. Di fatto, anche questo è un trauma. Trauma con cui il ragazzo dovrà fare i conti da solo con la propria coscienza per gli anni a venire. Insomma, non è esattamente il tipo di problema che risolvi regalandogli un giocattolo nuovo. Questo è uno di quei traumi che possono scavare dentro. Poi, ripeto, magari questa è una preoccupazione mia. Il ragazzo può essere anche tranquillo e felicissimo di aver eliminato un gruppo di orchi rubalavatrici e la questione si chiude lì, però non è detto. Il secondo caso di cui voglio parlarvi riguarda invece dei ragazzini ucraini sfruttati come spie a loro insaputa. SBU викrila spetslужbi RF на використанні smartphone-игр для verbovania українських dittей. Служba безпеки виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об'єктів. Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів. За її умовами, учасники шукають так звані коробки із віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. В цю інформацію з геолокацій учасники квесту завантажують в базу ігрового додатку. При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужба МРФ айті-компанія, яка зареєстрована в одній із європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ. Таким чином, ворог в темну, тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів. Questи ragazzini, infatti, hanno scaricato un videogioco sui loro cellularи che, sulla falsа rigа di Pokemon Go, chiedeva loro di spostarsi in varie parti della città e di prendere delle fotografie per ottenere dei premi. E, naturalmente, le fotografie e il geotag riguardavano la posizione di infrastrutture nevragiche come depositi petrolio, acquedotti, piuttosto che centralи elettriche, oppure ancora postazioni dell'есercito. Tuttavia, in Украина, come nel resto del mondo, scattare fotografie a strutture militari è reato. I ragazzini sono stati beccati mentre facevano questi reportage fotografici per ottenere i premi e i punti del gioco e i militari si sono accorti che qualcosa non andava. Naturalmente, i servizi segreti ucraini, appena scoperto il trucco, hanno contattato Google e hanno fatto rimuovere l'applicazione programmata dai russi. Se a qualcuno può interessare, questa applicazione è stata programmata dai russi ma è stato sfruttato un publisher europeo. E, naturalmente, a questo punto qualcuno farà una domanda del tipo «Ma avvocato, i russi hanno già i satelliti. Figurati se hanno bisogno di ricorrere alle fotografie scattate con i cellulari dai bambini». È vero, ma i satelliti costano e devono essere manovrati per poter riprendere una certa area. Oltretutto, a riferenza di quello che si vede nei film, non è che i satelliti ti permettono di controllare determinate aree 24 ore al giorno. Per farlo, te ne servirebbero davvero tanti e i russi non ne hanno così tanti. A parte questo, la definizione delle fotografie riprese da satellite non è sempre buona e certamente delle fotografie scattate sul posto a pochi metri di distanza dall'obiettivo possono fornire molte più informazioni. Quindi, sì, creare un software spia camuffato da gioco ha senso e darlo in mano a dei bambini ha ancora più senso perché i bambini si pongono molte meno domande degli adulti e hanno molto più tempo libero di loro. Un adulto, normalmente, non inizierebbe a fare il giro della città per fotografare infrastrutture chiave e potrebbe inoltre rendersi conto che quello che sta facendo non è del tutto legale e che potrebbe addirittura favorire il nemico. E per la cronaca, come ho già detto, normalmente scattare fotografie e infrastrutture militari è reato per cui i ragazzini che hanno partecipato a questo gioco sono comunque stati arrestati e verosimilmente verranno processati dal Tribunale per i minorenni locali. Poi, naturalmente, il giudice dovrà capire se questi ragazzini hanno realmente consumato il reato oppure se mancasse del tutto il dolo o la colpa. Con i minorenni comunque il sistema giudiziario tende a essere molto più clemente rispetto ai maggiorenni. E infine, ho scoperto che i ucraini e i russi non sono gli unici a utilizzare i minorenni come spie che ci crediate o no lo fa anche la Gran Bretagna. Esistono infatti almeno 20 agenzie governative che sono autorizzate a reclutare minorenni e a usarli come agenti sotto copertura o comunque come informatori. La normativa che regola questa attività viene chiamata Cover Agent Bill ed era in discussione alla Camera Alta circa un paio di anni fa. Poi, nel 2021 è stata approvata con qualche piccola modifica. Queste modifiche riguardano proprio il ruolo di minori come agenti segreti. La legge ha stabilito che i minori di anni 18 sotto copertura non possono essere autorizzati a compiere atti illeciti. Questo significa esemplificativamente che i minori di anni 18 non sono autorizzati né a fare uso né a spacciare sostanze stupefacenti, non possono imbracciare delle armi e tantomeno le possono utilizzare. In pratica, questa regola rende quasi impossibile utilizzare i minori per operazioni sotto copertura perché chiaramente se non possono delinquere difficilmente possono infiltrarsi. Solo in casi di estrema necessità un ufficiale superiore può autorizzare il minore a compiere reati e in ogni caso anche quando questo avviene deve esserci almeno un altro pubblico ufficiale nell'area pronto per intervenire. Infine, è bene precisare che il ricorso a minori per operazioni sotto copertura in Gran Bretagna è tutt'altro che la norma. Prima di questa modifica c'erano una ventina di agenzie governative che potevano utilizzare i minori sotto copertura ma nell'arco di 4-5 anni soltanto 17 operazioni hanno visto coinvolti dei minori e si trattava nella maggior parte o nella totalità di casi di situazioni in cui l'apporto dei minori non solo era opportuno ma era addirittura necessario perché magari si trattava di situazioni relative al traffico di bambini di fanciulli in quel caso un minore riusciva a prendere contatto con la polizia e poi collaborava con questa per aiutare gli ufficiali a trovare gli altri bambini e liberarli oppure per quanto possa far sorridere come esempio di una baby gang che aveva preso dei bambini in ostaggio e non era possibile localizzarli con sicurezza e celerità va da sé che in italia questo tipo di operazioni sono assolutamente vietate la guerra al crimine e il contrasto delle baby gang può essere svolto soltanto da pubblici ufficiali adulti e certamente non abbiamo né la necessità né riteniamoci sia l'opportunità di ricorrere a minori per svolgere operazioni che sono oggettivamente ad alto rischio e possono peraltro sconvolgere anche la psiche di un ragazzino e voi cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale e se vi sentite particolarmente generosi diventate anche un patreon e aiutatemi a perfezionare l'attrezzatura e a fornire un prodotto migliore come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti